Domenica 21 ottobre alle ore 21 a Spazio Rimediato, la premiata ditta Antonucci e Fabri presenterà Il timido anticristo, edito da Feltrinelli e Daniele Fabri regalerà un suo monologo di stand-up comedy. Il timido anticristo, scritto da Daniele Fabri e Stefano Antonucci e disegnato da Maurizio Boscarol, racconta la storia di un trentenne distaccatosi dalla fede, che deve confrontarsi con la religiosità della famiglia e delle persone care, poiché, al di là del conflitto tra fede e razionalità, il vento terreno di scontro è quello di convinzioni sul modo personale di discernere tra cosa bene e cosa male. L'appuntamento è dunque a Spazio Rimediato, in zona Fontesecco, domenica 21 ottobre alle ore 21.